La strada per me è un grande palco per provare l'emozione di essere, tra virgolette, visti o comunque giudicati da un pubblico. Mi chiamo Alberto Niero, in arte blackroll, ho 21 anni, sono un beatboxer ma anche un'artista di strada. La passione per il beatbox è nata grazie alla mia professoressa di musica in seconda media, la quale mi faceva vedere un video di un beatboxer a un talent show dove rifaceva Billie Jean di Michael Jackson. E quindi ho provato a fare, 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 è diventata tra virgolette un'ossessione. Nella famiglia da parte di mio padre sono quasi tutti barbiere e parrucchieri e quindi ho voluto seguire le loro orme come parrucchiere. Questo lavoro l'ho affiancato alla passione del beatbox finché mi sono ritrovato a prendere una decisione. Continuo a fare il parrucchiere o provo a dare il 100% nel mondo del beatbox? Quindi nel 2021 sono venuto qui a Padova a provare ad esibirmi nelle piazze, un po' per gioco, un po' per divertimento. E oltre ad essermi divertito tantissimo ho avuto anche un riscontro economico positivo. E quindi eccomi qua. Attualmente sono campione italiano in carica e top 8 al mondo. Quindi dai, sta andando bene. Il mio show è molto energetico e coinvolge tantissimo il pubblico quindi preparatevi a battere le mani e ascoltare la mia musica.